Grazie Presidente. Io qui vi invito ufficialmente a firmare questo documento. Dopodiché rimango perplesso nel momento in cui voi qui fate le pulci a questo documento e non l'avete fatta ai vostri partiti. Allora basta con le strumentalizzazioni, prendetevi la responsabilità e non scappate. Per cui ve lo dico onestamente, in questi due anni non ho visto un comunicato a favore di quello che stavano facendo all'interno di quei municipi, anzi molto spesso dai vostri partiti io ho visto critiche. Allora delle persone che hanno delle responsabilità se le prendono tutte e fanno in modo, così come ho detto, di fare un percorso, perché io ho iniziato questo intervento, sono stato buonissimo, senza nessuna strumentalizzazione. Voi qui adesso vi permettete di dire che all'interno di quel documento non c'è la verità. Voi oggi volete bocciare, astenervi o scappare di fronte alla verità. Prendetevi le vostre responsabilità fino in fondo, perché là dentro c'è scritta la verità. E non vi fa onore questo. Non fa onore a lei, consigliera di Biase, non fa onore a chi oggi in quest'Aula sta scappando. Il documento è lì, firmatelo, fate una sospensione, ma non abbiate paura. Andate avanti.